Iaia ci si è in carcere in Mauritania dal 30 marzo 2012, condannato a morte. Iaia è innocente. Iaia ha subito tortura. Ha subito un processo ingiusto, dato che non si trovava in Mauritania quando veniva perpretato il delitto di cui è accusato. Le prove ci sono. Al processo queste prove sono state nascoste e ne sono state costruite di false. Iaia era immigrato per lavorare in Mauritania, ma si occupava anche della comunità maliana e dei suoi diritti in Mauritania. Si occupava in particolare della lotta alla emigrazione clandestina. Dobbiamo esigere dalle autorità mauritane una risposta chiara alle numerose istanze fatte dall'avvocato di Iaia. Perché le autorità maliane non hanno mai visitato Iaia in prigione malgrado le sue numerose richieste. Iaia ha diritto alla giustizia, alla vita, ad essere liberato e tornare in mali dove lo aspettano due figli. Libero e riconosciuto innocente. Agiamo subito per la giustizia. Non possiamo lasciare un innocente tutta la vita in carcere. Giustizia per Iaia. Giustizia per l'Africa. Firma la petizione. Manda le tue adesioni alla mail del comitato. Grazie. 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 Grazie.